Il mio svezzamento è stato fatto con il tuorlo dell'uovo, il sangue del bue e la carne macinata, masticata da mio nonno e messa in bocca. Io non ho toccato carboidrati fino all'età di sette anni. Fino ai sette anni, questo penso fosse la cadenza di circa ogni mese, si macellava un maiale che si macellava per più famiglie, io venivo portato da mio nonno e si tagliava la punta del fegato cruda e la si dava al bambino. In quel caso ero io perché si diceva che fa bene, che fa bene al bambino. Io non vado al supermercato da anni, non uso bagno schiuma, non uso shampoo, non uso dentifricio, non ho una carie. Mangio solo carne e vado dagli amici allevatori. Oggi mi hanno portato un agnello intero, cervo, cinghiale. Io mi nutro solo ed esclusivamente di questo. Io posso dirti quello che ho visto con i miei occhi da parte di tutti praticamente i miei parenti. Mia moglie, che è più giovane di me, di quasi dieci anni, faceva merenda con il lardo. Una cosa normalissima. Il mio bisnonno Cesare di mattina presto si alzava, si beveva un bicchiere d'acqua, in tasca si metteva un uovo a sodo, due uova a sodo. Si andava ogni fine settimana a fare la spesa, ma la spesa di cosa? Di carne e di grasso. Qui in casa da me, io, mia moglie e mia zia, che vive con me, 75 anni, siamo tutti in carnivora. Vuoi vedere gli esami di mia zia? Spettacolari. I gliccini da 40. Io ho fatto la visita militare a 17 anni. La fila dietro di me era rivolta così che mi guardava, quella davanti dall'altro senso che mi guardava. Io ero un alieno e non capivo perché. Io mi ero nutrito prevalentemente fino anche a quell'età. Poi tornando in palestra con i consigli di quell'uomo che diceva, mangia solo carne e uova. Io ho continuato così per tutta la vita. Andiamo a sommare tutti gli anni in cui tu hai seguito un'alimentazione alla fine carnivora. Quanti anni vengono in totale? 35. Ebbene sì, hai sentito bene. Oggi ho l'onore di portarti la testimonianza di una persona che ha seguito una dieta carnivora per 35 anni. Se tutte le persone che continuano a criticare quello che sto facendo sul canale, dicendo che non ci sarebbero prove di quello che sostengo, perché ho portato testimonianze di persone che hanno seguito una dieta carnivora per 1, 2, 3, 4, 8 anni e dicono che non è abbastanza, forse ora mi diranno che è abbastanza quando una persona ha seguito una dieta carnivora per 35 anni. E l'esperienza di Thomas non prova soltanto che quello che dico sul canale a livello generale è corretto. Ma anche le piccolezze, anche le piccole cose sono corrette. Perché io ho fatto dei video dove ho parlato dei nutrienti più importanti per una donna in gravidanza e lì ho spiegato quali sono questi nutrienti più importanti ed ho detto che se un bambino li assumesse sin dalla nascita con un'alimentazione veramente corretta, allora non oso immaginare di che razza di vantaggi potrebbe ottenere rispetto a tutti gli altri bambini e come potrebbe differenziarsi a livello sportivo rispetto a tutti i suoi coetanei. Questo Thomas lo dimostra benissimo perché ha avuto l'enorme fortuna di essere nutrito in questo modo dai suoi nonni e dai suoi bisnonni che appartenevano ad una generazione di persone ancora fortemente legate alle loro tradizioni alimentari e poi stiamo parlando di sardi, quindi persone che hanno da sempre messo in primo piano gli alimenti di origine animale e quindi la testimonianza di Thomas dimostra esattamente quanto io dico sempre nei video cioè che questa alimentazione estremamente nutriente e compatibile con la nostra specie gli ha permesso di svilupparsi al meglio, di non avere praticamente mai nessuna patologia e di avere un grandissimo vantaggio su tutti gli altri coetanei puoi notare innanzitutto che Thomas presenta delle narici più grandi esattamente come quelle osservate da Weston Price nelle popolazioni native degli anni 30 del 900 quelle popolazioni che ancora si nutrivano della loro alimentazione tradizionale composta principalmente da carne e pesce questa è una delle testimonianze più importanti in assoluto che ho abbia mai portato anche perché poi abbiamo aggiunto delle foto quando Thomas parlerà io aggiungerò delle foto che lui gentilmente mi ha mandato e da qui potrai vedere benissimo che non solo la sua salute è impeccabile ma anche che come ho sempre detto sin da quando ho creato questo canale non c'è assolutamente bisogno di carboidrati nemmeno per l'attività fisica nemmeno per il bodybuilding disciplina che infatti lui ha sempre praticato in cui ha sempre avuto dei vantaggi rispetto ai suoi coetanei ancora oggi è che guarda caso proprio quando ha deciso di introdurre dei carboidrati perché ovviamente utilizzati e consigliati da altri atleti e preparatori atletici ha cominciato proprio in quel momento a sperimentare dei problemi di salute e delle patologie varie che guarda caso sono scomparse proprio nel momento in cui ha smesso di utilizzare carboidrati esattamente come dice Thomas nella testimonianza oramai solamente un troglodita non si renderebbe conto di queste evidenze per questo motivo io comprendo benissimo quando lui dice che oramai ha smesso di evangelizzare ma io comunque continuerò sempre a martellare continuerò sempre a portare delle testimonianze per fare in modo che oramai anche le persone più stupide si rendano conto che la realtà è assolutamente questa che non c'è spazio a nessun'altra interpretazione non si può distogliere la lealtà e venire a dire che il motivo per cui una persona sta bene seguendo una dieta carnivora è che ha eliminato tutti gli alimenti dannosi perché con tutti gli altri stili alimentari prendi ad esempio la dieta vegana, la dieta vegetariana anche una dieta onnivora diciamo ben strutturata senza gli alimenti processati tutti questi stili alimentari non ottengono assolutamente gli stessi risultati quindi è chiaro che è nella carne che c'è qualcosa che non si trova assolutamente altrove ed io per questo, per affermare la verità, sono disposto a qualsiasi cosa la verità si deve affermare la verità deve arrivare a gridare così forte che tutti possano sentirla e nessuno ne possa restare più indifferente ok, adesso con questa lunghissima introduzione che ci tenevo a fare perché io sono agguerrito e quindi voglio dire le cose come stanno esattamente come vanno dette ma tra l'altro anche Thomas è molto agguerrito lo sentirai dalla testimonianza sono sicuro che ti piacerà tantissimo questa intervista quindi goditela al massimo e devo chiedere scusa in anticipo perché essendo stata praticamente la prima intervista in assoluto che ho fatto utilizzando il cellulare non ero ancora ben attrezzato con l'audio e quindi ho utilizzato degli auricolari di fortuna che avevo già in dotazione ma adesso mi sono dotato di auricolari nuovi di qualità decisamente superiore e quindi in futuro porterò sicuramente tantissime altre testimonianze dove l'audio sarà impeccabile perlomeno dalla mia parte perché poi anche l'audio di Thomas purtroppo lascia un po' a desiderare ma ho fatto il possibile nell'editing per cercare di rendere l'esperienza quanto più piacevole possibile ok, fatte queste considerazioni ti lascio quindi all'intervista prima di cominciare non dimenticare di cliccare sul tastino mi piace qui in basso di lasciare un commento se hai qualcosa da dire in merito e di condividere il video per fare in modo che arrivi a quante più persone possibili detto questo ti auguro buona visione io sono testimone diretto di quella che è stata la cultura qui in Sardegna anche nel Cagliaritano che diversamente dall'entroterra essendo una città portuale si disperdevano maggiormente un pochino di più diciamo anche le abitudini anche se poi magari creavano le proprie però al di là di questo io sono stato levato non dai genitori biologici i nonni mi hanno preso e portato a casa il mio svezzamento è stato fatto con il tuorlo dell'uovo il sangue del bue e la carne macinata, masticata da mio nonno e messa in bocca io non ho toccato carboidrati fino all'età di 7 anni tra l'altro perché li ho conosciuti nonostante io abbia 46 anni sono morti tutti i centenari, tutti io non ho uno zio, un parente, un nonno, un bisnonno che non sia morto centenario però c'è da dire che noi avevamo una cultura alimentare un pochino più radicata nelle tradizioni sarde rispetto anche agli altri il mio bisnonno Cesare mi faceva il ciuccio con il lardo Di che zona della Sardegna? Allora noi siamo originari di Siurgus Donigala è vicino Cagliari anche se comunque rimane abbastanza chiuso in se stesso adesso poi ovviamente quest'ultimo periodo, le nuove generazioni insomma le cose sono cambiate un pochino e anche lì non è più come era magari appunto 40 anni fa o 50 anni fa però comunque quando siamo venuti a vivere qui a Cagliari mio nonno ha avuto la possibilità di aprire la prima rifornitura dell'Agip qui a Cagliari quindi comunque abbiamo in quegli anni anche se attraverso duro lavoro comunque goduto anche di una buona condizione economica ok? Questo ci permetteva di fare una cosa che abbiamo fatto di sicuro fino a che avevo 5 o 7 anni, 6 anni sicuro ogni fine settimana si va in paese si prende il lardo, la carne oltretutto voglio dire facciamo una considerazione importante il frigorifero, il freezer, queste cose sono molto più moderne io ho la fortuna con i miei 46 anni di essere nato a cavallo di un cambio generazionale che poi nel tempo mi ha offerto la possibilità anche di fare un confronto io sono sempre stato un enorme appassionato di sport fin da piccolo io volevo allenarmi, volevo diventare muscoloso, volevo diventare forte i miei miti erano Tyson e Schwarzenegger ho voluto anche documentarmi, studiare per potermi migliorare nel mio sport e quindi ho avuto accesso a tutti quelli che erano le conoscenze inerenti ai protocolli di allenamento così conosciuti come appunto l'uso dei carboidrati che ne so, ci sono stati periodi per preparazione che gli ho mangiato un chilo al giorno ma chi fa sport sa benissimo poi voglio dire, le ho provate tutte io parlo perché ho deciso qualche anno fa di fare un anno e mezzo da vegetariano di proposito ho fatto gli esami ho fatto quel periodo, a parte che mi sono sentito una merda non sono mai stato così male in vita mia essendo stato tra le braccia di nonni e bisnonni che avevano una cultura alimentare sarda prima di tutto questo è perché poi quando io sento questioni di zone blu la Sardegna è vegetariana se qua ti scappo un maialetto per strada se lo mangiano è una stupiraggine mostruosa anche io qui conosco qualche decelebrato vegetariano lo conosco anche io però voglio dire, al di là di questo io non conosco una persona che non si nutra di carne poi non avrà una cultura per dire faccio una dieta del tutto carnivora ho delle competenze atletiche o nutrizionali quindi so come amministrarmi perciò convergo in questo piuttosto che in quest'altro ancora un altro discorso ma di base io sono sicuro che un pezzetto di carne così piccolina in bocca lo mettono tutti i giorni i sardi quali sono gli alimenti che tu hai visto diciamo sempre consumati dai sardi? e comunque questo più o meno su tutta la regione quindi quello che stai dicendo va più o meno per tutta la regione io posso darti delle indicazioni molto precise perché essendo stato un atleta anche di professione avevo l'interesse di osservare attentamente tutte quante le cose guardavo quando ero seduto in una tavola come mangiavano le persone a seconda del gruppo di età i vecchietti, i più giovani, quali cibi sceglievano avendo delle conoscenze di tipo sulla scienza della nutrizione osservavo e ero anche molto incuriosito e dicevo guarda un po' come già le nuove generazioni si stanno avvicinando a mangiare a maggior me la coca cola in tavola queste cose non le ho mai viste quello che posso dirti qua è che se facciamo una comparazione rispetto a qualunque altra regione nel modo in cui mangia il sardo qui posso dirti che il sardo quasi certamente almeno il fine settimana si attiene agli alimenti tipici sardi sicuro festività è il fine settimana di tutto l'anno questo te lo posso garantire sicuramente si fanno i maloreddus o i colungionis o il maialetto italiano però sarebbero i gnocchetti fatti con la salsiccia capito? insomma tutte cose tipiche sarde che dove non esiste un alimento dove non ci sia la carne dai non diciamo stesse via il formaggio qui fermi qual è il formaggio qui fermi? buonissimo qual è l'animale più consumato? perché io so che comunque ci vanno molto pesante sul maiale e sull'agnello più o meno giusto? sì hai detto giusto prevalentemente si consuma maiale e agnello prevalentemente poi ripeto dipende adesso la cultura che ho io alimentare è diversa io non vado al supermercato da anni non uso bagno schiuma non uso shampoo non uso dentifricio non ho una carie mangio solo carne e vado degli amici allevatori oggi mi hanno portato un agnello intero me lo sono ripulito me lo sono preparato in freezer mi hanno portato cervo cinghiale tutta roba buonissima io mi nutro solo ed esclusivamente di questo non faccio nessun tipo di integrazione noi ci stiamo conoscendo per la prima volta e quindi io ti racconto le cose un tanto al chilo è evidente però quello che posso dirti diciamo così per tracciare una linea generale è che avendo avuto esperienze atletiche di diversi tipi ho fatto il fuggilato ho fatto il bodybuilding sempre perché mi piace lo continuo a praticare insomma combattevo ho fatto una gara regionale di bodybuilding non ho fatto niente di eccezionale però comunque mi sono sempre direttato al confronto perché prevalentemente avevo interesse di capire quello che succede quando mangi quando ti alleni insomma avevo voglia di comprendere qual è stata la tua esperienza innanzitutto presso i tuoi nonni e bisnonni cioè che cosa hai visto consumare maggiormente quali erano le abitudini alimentare comunque poi vorrei sapere anche quanto sono vissuti più o meno tutti sì parenti, conoscenti perché comunque si sa che in Sardegna c'è una prevalenza maggiore di centenari comunque di persone che vivono più a lungo e oltretutto questa età si sta abbassando per quale motivo? perché l'alimentazione è variata io posso dirti quello che ho visto con i miei occhi da parte di tutti praticamente i miei parenti mia moglie che è più giovane di me di quasi dieci anni ma anche lei di Surgus Donigala faceva merenda con il lardo una cosa normalissima il mio bisnonno Cesare di mattina presto si alzava si beveva un bicchiere d'acqua e praticamente pranzava perché in tasca si metteva un uovo sodo due uova sodo nel caso in cui dovesse andare in campagna o cose di questo genere però lui rientrava sempre più o meno verso le 14 in orario di pranzo si andava ogni fine settimana a fare la spesa ma la spesa di cosa? di carne e di grasso per salumi io ho conosciuto le salsicce di cinghiale di cervo di pecora di maiale sì anche ma non maiale allevato in batteria fino ai sette anni questo penso fosse la cadenza di circa ogni mese si macellava un maiale che si macellava per più famiglie io venivo portato da mio nonno e si tagliava la punta del fegato cruda e la si dava al bambino in quel caso ero io perché si diceva che fa bene che fa bene al bambino qui ho costruito una palestra in casa ho un sacco di atleti ti ripeto ho praticato sport nella mia zona qui mi conosce un sacco di persone e qui perciò quello che io ti sto dicendo adesso qua è a testimonianza di poter essere detto da chiunque mi conosca io avorro farmaci anche un occhi sono sempre stato così perché qui sono cresciuto fin da piccolino e sono alto 1,76 cm peso 80-81 kg qualcosa del genere poi dipende uscillo ma più o meno sono sempre stabile e sono particolarmente muscoloso e mi rendo benissimo conto che tutte le volte che io ho attraversato inizialmente un incremento peso e poi invece andavo via via a stare anche male avere anche delle patologie dei problemi mal d'orecchia sempre catarro e cose di questo genere era ogni volta che io ciclizzavo negli allenamenti e nella programmazione i carboidratti e mi chiedevo ma non è possibile sono un atleta da tutta la vita cazzo mangio solamente un poco di riso tra l'altro 50-80 grammi un giorno sì un giorno no nella media eccezion fatta dei periodi fatti a programma ma io ti sto parlando di cose vecchie di anni perché poi nel frattempo tutta questa questione da me è stata analizzata mettendola a confronto appunto con quello che io osservavo a livello nutrizionale da parte dei nonni ma che vivevo in prima persona ma poi facciamo anche un'altra considerazione quando io avevo circa 13 anni appassionatissimo di sport vivendo a Cagliari andrei ad allenarmi in una palestra che mi sente di Cagliari se lo ricorda la palestra olimpia di Viale Elmas di signor Nino Pinna 74 anni ex sollevatore olimpico appassionatissimo di bodybuilding che mi disse quando io andrei ad allenare perché io ero curioso volevo sapere quindi come mangiano gli atleti per diventare grossi io mangio così mangio cosà e lui era rimasto piuttosto colpito dicendomi beh accidenti sei già molto vicino però se non ti dice niente tua nonna perché sapeva che abitavo con nonna tu anche 20 uova in un giorno mangiale te lo giuro la carne se avete la possibilità anche un chilo due se puoi mangiali mi diceva siccome io ero giovane e per me era oro colato qualsiasi cosa mi dicesse io semplicemente aumentavo le dosi di quello che normalmente già mangiavo apportavo delle variazioni facevo la colazione cosa che non avevo mai fatto io sono uscito una vita a digiuno ma tuttora a volte quattro volte a settimana io alle sei sono in piedi mi occupo delle mie galline mi occupo dei miei cani mi occupo delle cose che devo fare perché sono in campagna alle otto e mezza a nove incomincio la lezione arrivano gli allievi e io mi alleno con loro fino alle 14 facciamo la sauna facciamo la vasca del ghiaccio facciamo gli allenamenti lo sparring i pesi facciamo tutto poi rientro e mangio a carne a volontà finché ne ho voglia basta semplicissimo è quello che io ho potuto constatare anche con la mia esperienza atletica è proprio questo a parte che io ho documentato tutto Roberto io ho mazzi di documentazione perché comunque era mio interesse capire cosa succedeva ogni volta che rimettevo i carboidrati chissà perché ciclicamente ritornava il mal d'orecchio il mal di schiena e i fastidi dei vecchi infortuni sempre solo che anche io ho girato mezzo mondo e ho pagato preparatori atletici in giro per il mondo di altissimo livello facciamo una puntata ti dico nomi cognomi tutto non c'è problema sono stati i miei preparatori atletici persone super competenti che però anche loro in particolar modo uno molto importante negli anni nel 95 97 in quegli anni lì ci faceva usare i carboidrati pochi ma ci li faceva usare se gli lo vai a chiedere adesso a lui è sempre un gran preparatore atletico e ha compiuto più di 60 anni ti dice no perché persino lui aveva delle convinzioni sbagliate quindi il mio ad operare i carboidrati era il tassello sbagliato ma che io non consideravo minimamente ecco perché mi diceva ma io mangio benissimo perché per me era mangiare benissimo i carboidrati devono io facevo conto che servissero quindi considerandoli facente parte del programma non li consideravo sbagliati non può essere non può essere questo c'è qualcosa in me che non va è psicosomatico sto male qualche vecchio engram mi fa tornare un problema fisico tutte me le pensavo tranne che potesse essere quello quando poi le mie conoscenze sono diventate tali a tal punto che è una bella spinta ma l'hai data tu te lo devo riconoscere tu mi hai dato veramente sì te lo devo riconoscere guarda che io ho molta competenza in materia non lo voglio non voglio sembrare presuntuoso ma so quello che sto dicendo ok e tu mi hai dato un'ottima spinta perché col tuo modo semplice umile di mettere le evidenze capito mi ha dato un'ulteriore convinzione non che io non ce l'avessi però ti faccio un'altra premessa qui in casa da me io mia moglie mia zia che vive con me 75 anni siamo tutti in carnivora vuoi vedere gli esami di mia zia spettacolari preglicidi a 40 colesterolo a 300 e il medico io e mia moglie non abbiamo un medico di famiglia mia zia ce l'ha l'abbiamo portata signora devi usare assolutamente questo integratore figurati qui è là però mia zia che è furba si fida moltissimo di me si fida moltissimo conosce la mia vita il mio storico ha visto che ho trasformato più gente io di cernobil quando vengono qui da me in palestra ho salvato la vita un sacco di persone semplicemente mettendo le evidenze io non non tifo nulla se mangiare carota e rosicchiare torsi di mela mi faceva stare in salute muscoloso lo facevo sicuramente è evidente che così non è infatti quando a me a volte capita una persona che mi vuole provare a fare tutto il discorsetto ma da me è difficile perché da me io faccio lezioni vengono le persone che vogliono provare le metto subito alle strette sono il sergente Hartman di full metal jacket io in palestra quindi dico allora se alleni qui da me alleni così e mangi anche così ma tu non sei un nutrizionista io va bene non fa niente ce la rifacciamo questa chiacchierata e ci mettiamo in mutande davanti a uno specchio mentre rifacciamo questa chiacchierata per me conta solo l'evidenza e io ne ho avuto una prova in prima persona io ho avanzato chili di carne al giorno i miei analisi sono perfette ricordi che ti ho accennato nell'email che c'è stato un frangente di periodo tra i miei 7-8 anni e circa 9-10 anni in cui mia madre biologica mi ha diciamo ripreso con sé bene nell'arco di quegli anni l'unica volta che ho avuto una carie l'ho avuta in quell'anno lì sono stato ricoverato per dei mesi al microcitemico mi è venuta prima un ingrossamento del fegato incredibile poi ho avuto l'amoronucleosi e ti garantisco che è legato a quello perché una volta poi fatti ricoveri e quant'altro io ero piccolo ma me lo ricordo benissimo i dottori gli dissero a mia madre al tempo signora come lo sta nutriendo questo bambino già è una cosa fuori dalla norma perché molto fuori dalla norma però 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 io ho 46 anni stiamo parlando di 40 anni fa un po' di tempo fa sì sì è diverso è diverso ah ecco l'appendice ho operato l'appendice un sacco di problemi e gli unici che ho avuto li ho avuti in quel frangente di periodo lì passano gli anni mi alleno mi documento divento un atleta ho l'interesse di avere delle certe competenze fisiche allo scopo che vado perseguendo per combattere e quant'altro però inevitabilmente come ti dicevo l'altra volta il mio passato bussava in modo molto prepotente mi diceva ma guarda che però se non ricordo male tu sei nato così cresciuto così erano i giorni migliori io ho fatto la visita militare a 17 anni che eravamo a Calamosca tutti in fila sai come si mettono tutti in fila così io ero più o meno al centro la fila dietro di me era rivolta così che mi guardava quella davanti dall'altro senso che mi guardava io ero un alieno e non capivo perché io ero tornato a casa che mi chiedevo anche ma perché la gente mi guarda così io mi ero nutrito prevalentemente fino anche a quell'età ci sono fatta di quel periodo poi tornando in palestra con i consigli di quell'uomo che diceva mangia solo carne e uova io ho continuato così per tutta la vita ed effettivamente io a quell'età tra i 15 16 17 sai c'è l'impegnamento della tua curva ormonale diventi uomo ero un alieno fisicamente permettimi ma io lo sono ancora rispetto ai miei coetanei qui la gente è sicuro che mi vede mi dice che mi bombo però tanta gente mi conosce e sanno benissimo perché comunque ho insegnato in diverse palestre ho combattuto la mia palestra la Sardegna a Caglia non è un posto poi così grande è ovvio che ci si conosce abbastanza in fretta e quindi questa è la mia esperienza con i nonni e i bisnonni mi ricordo che nonna cenava con un brodo d'ossa e il lardo dentro la carne sì 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 questa è stata la nostra cena stupende queste cose che hai detto c'è veramente tantissimo io se volessi farti domande non la finirei più veramente e io non finirei più di risponderti perché c'è veramente un mare di roba da dirti guarda a parte la prima considerazione tu sai benissimo che se una persona segue una dieta carnivora adesso comunque una delle problematiche più grandi che hai è quella dello stigma sociale per cui capita in una situazione sociale e dice ma che cosa faccio qua non mangio questo non mangio quest'altro mi guardano come strano però in un posto in cui diciamo a livello generale socialmente è più che accettato comunque mangiare carne e si mangia diciamo più o meno ovunque in ogni circostanza allora questo problema non te lo poni proprio quando hai detto che le persone facevano merenda con il lardo cioè sì sì il tuo nonno che si portava le uova sode ma anche immagino comunque con i salumi la carne secca la carne secca guarda che io avevo in tasca avevo un pezzetto di carne secca quando a volte andavo a giocare in strada con i miei cuginetti i miei cuginetti invece avevano 300-500 lire in tasca per comprarsi le patatine eppure erano i miei coetanei solo che io avevo un imprinting differente è un interesse è un interesse differente io dai 7 ai 9 mi hanno portato a giocare a basket ai 9 10 11 ho cominciato a giocare a rugby fatto rugby capoterra dagli 11 fino ai 17 anni grandissimo il capoterra nel rugby una squadra eccezionale un posto che mi ha insegnato moltissimo almeno in quegli anni c'era una bellissima mentalità veramente vichinga carne e allenamento duro anche lì poi a 13 mi sono iscritto in palestra andavo in palestra mi pagavo il mese mi allenavo studiavo volevo ottenere un risultato avrei anche gareggiato però la mia generazione la mia età andava a cavallo di un periodo in cui il bodybuilding stava cambiando ed è diventato permettimi di dirlo che non si offendano se si offendano non mi frega niente lo schifo che è diventato oggi sono ingozzati di carboidrati e farmaci di fatti hanno un aspetto gonfio malsano invece tu osservi il bodybuilding per farci un esempio Vince Gironda fino agli anni 70 voglio dire qui è la terra di Franco Columbo quindi però vedi anche Franco Columbo Franco Columbo è già a cavallo di una generazione diversa dove certamente ha usato i carboidrati per spingere a livello chimico alcuni contesti interni affinché avesse un'ulteriore crescita perché di fatto questo è il bodybuilding e di fatto va usato per poter far crescere i muscoli ma se vuoi fare quel bodybuilding che non ha niente a che vedere con qualcosa di salutare anzi il motivo per cui è nato il bodybuilding fino ai primi anni 50 là sì che era fino agli anni 70 fino agli anni 70 anche se era già entrato il doping in qualche modo in qualche modo perché io avendo una mentalità atletica mi rendo anche benissimo conto quello che il tuo patema emozionale ti spinge in ragionamento per voler dire voglio ottenere maggiormente un risultato sei pronto a tutto come chi corre in macchina a 300 orari sa di rischiare quindi dal punto di vista sportivo riesca a capire questo è come il pugilato non ero così se non faceva male il pugilato voglio dire perché comunque anche quello ha il suo pericolo ma lo metti in conto ma è molto più complesso il discorso sta di fatto che comunque tutto quello che io ho potuto vedere i miei nonni e bisnonni è molto molto chiaro per me non ha dubbi quello che posso vedere tutti i giorni qua è che io ogni persona che viene qui da me gli dico senti perché non faccio lezioni a tutti qui vado solo di nicchia non mi frega niente io esco vado a caccia faccio altro per purvermi il cibo quindi chi arriva gli dico bene sentimi un po' io ho la terza media che non è vero ho preso il mio diplomino sono un tecnico di nazionale gli ho fatti i miei studi ma io li aggiro così allora sentimi un po' io ho la terza media ok quindi non incominciare a farmi discorsi ma qui corsi non corsi chi sei non chi sei se vuoi allenare da me devi anche mangiare come ti dico io altrimenti fuori non ti alleno io non alleno le persone sì sì io oggi stamattina ho finito di fare lezione avevo dei ragazzi nuovi di cui due uno sta tentando la carnivora da quasi un mese e ci sta diciamo riuscendo l'altro è qualche giorno che sta incominciando a provare ad aggrappare un altro ancora mi stava solo ascoltando non era assolutamente convinto finito l'allenamento oggi gli ho detto venite tu la mia palestra è attaccata alla casa è nello stesso terreno gli ho detto venite qui che vi faccio vedere una cosa gli ho portati a casa ho preso tre bicchiere gli ho versato il brodo d'ossa con tutto il midollo il cervello dentro tutto squagliato gli ho versato i tre bicchiere gli ho detto dai beviamoci questo altro che proteine amminoacidi gli ho detto butta giù senti che è buono dai coach ma lo sai veramente buono questa è la mia colazione io faccio colazione così ho sempre un pentolone con dentro soprattutto cervello fegato tutte queste robe che fa una bella bollitura mangio le carni sicuramente al sangue quelle di vitella però la pecora l'agnello li cuocio li cuocio bene poi se fai un bollito inevitabilmente deve cuocere parecchio però quella è la nostra colazione mia di mia moglie di mia zia 75 anni la devi vedere convincere a fare la carnivora è stata una fesseria lo sai come ci sono riuscito gli ho detto zia senti un po' gli ho detto tutto in sardo ha detto dico in italiano mi dici un po' come mangiavi quando eri piccolina ti ricordi come mangiava nonna nonno nono cese nona delina ho fatto così ci ha pensato quanti anni avevano quando sono morti la più giovane è stata mia nonna 96 che infatti dagli anni 90 la più giovane che infatti però abitando già a Cagliari dagli anni 90 in poi si è civilizzata e quindi anche lei faceva la minestrina e ci metteva la pasta barilla per fare la minestrina il dado tutte quelle cose che prima noi facevamo il dado cioè il dado che ho conosciuto io lo sai che cosa era era un pezzo era un pezzo di lardo aromatizzato pochissimo messo in un posto lo facevano duro duro stretto stretto e ce lo buttavi dentro il brodo che era acqua sale carne basta basta non c'era altro e io siccome so che niente è più contagioso dell'esempio cerco di esserlo per tutti i miei allievi al limite del sembrare un po' spigoloso a volte quasi sembrare presuntuoso arrogante e le metto in mezzo tutte che capisco benissimo che chi a volte non è preparato a certe cose però io cerco di usare un po' di pnl con le persone capito quindi alzo la voce dove serve la riabbasso lo coccolo lo ribastono lo ricoccolo e tutto questo lo faccio però provando a dimostrarlo dico scusa guarda mia moglie guarda me guarda mia zia vieni qua guarda come pensi che ci siamo evoluti ma che cazzo dici ascoltami guarda cerco di mettervi sulla logica e poi è veritante da raccontarti atleti che vengono da altre palestre che hanno idee completamente opposte alla mia e io li sfido gli sfido in panca in squat e anche facendo lo sparring dico non c'è problema io non sono vecchio a tal punto sono ancora provabile il cibo è il primo metodo con cui viene manipolato il mondo il primo il primo con cui hanno incominciato il vecchio di 10.000 anni hanno incominciato a studiare il metodo di fregare le persone a livello sanitario ci stanno studiando almeno da 10.000 anni io dimostro con le mie prestazioni atletiche con il mio fisico con il mio curriculum quello che mangio che bevo che faccio non faccio e alla luce di tutti e quindi questo è quanto io sono forte del mio passato sono uno dei pochi Chardana rimasti in vita nell'epoca moderna qua in Sardegna perché si sono persi tutti qua fanno la fila da McDonald's ma ti garantisco che mangiano il maialetto però la salsiccia il cinghiale il cervo sicuro senza dubbio quelle cose là sono rimaste sicuramente poi si è aggiunto tutto il resto che è venuto dopo con la modernizzazione ci sono aggiunte delle cose è bellissimo quello che hai detto prima il fatto che quando tu andavi a giocare con i tuoi compagni tu avevi la carne secca loro avevano invece i soldi per andarsi a comprare le patatine perché questo fa capire quanto è importante comunque come nasce una persona le prime abitudini della vita se oggi siamo circondati comunque da delle abitudini malsane delle abitudini non salutare che comunque ci vengono inculcate si dalla nascita e quindi troviamo difficile ritornare su quelle che sono state alla fine le basi per tutta la nostra esistenza quindi gli alimenti che abbiamo sempre consumato carne, pesce, uova le persone oggi possono dire sì ma come fai se hai dei bambini quando poi stanno con i compagni è difficile allora non spingono per farli consumare principalmente carne ma dipende la colpe degli adulti che magari non hanno consapevolezza ma la colpe degli adulti io ho un'altra testimonianza stupenda in merito c'è un carissimo amico Saverio insieme a quella bravissima donna della moglie Alessia che sono carnivori lo sono tutte e due le figlie l'ultima nata stata svezzata solo ed esclusivamente a carne io non ho mai visto bambine più sane quando io lui viene ad allenarsi qui da me le porta a volte anche in compagnia di qualche altra bambina del vicinato perché io li accolgo tutti i bambini li voglio qui da me perché così vedono e sai che i bambini fanno memoria anche subconscia quindi io portate i bambini che vedono un bel clima e comprendono si nutrono solo di carne quando io guardo le sue figlie a confronto delle altre poi io interrogo poi io interrogo magari quella vedo la bambina magrolina un po' strana un po' diversa il colorito cosa hai mangiato oggi a merendina e mamma mi ha dato un kinder un bustel una cosa allora chiamo la figlia di Saverio cosa hai dato oggi a tua figlia a merendina cosa vuoi che abbia mangiato un po' di carne che è rimasta da pranzo e sono delle bambine che saranno con i pesi sono fortissime gli insegnano il pugilato si mettono al sacco sono fortissime sono sane corrono non hanno niente una carie un chiagnè non hanno niente non ho bisogno di niente per molti anni ho cercato di evangelizzare mi sono asciugato la bocca mi sono seccato la lingua parlando con le persone te lo raccomando dal 2020 in poi cosa tutto io ho cercato con le persone di dire ragazzi adesso è il momento di aprire gli occhi guardate che vi stanno smascherando mettendovi il bavaglio vi stanno in realtà smascherando tutti chi ragionerà in un modo che in un altro è stata per me un terreno per così dire fertile per fargli notare delle cose ma serve del tempo anche per quello comunque sto nel fatto che io ho smesso di evangelizzare chi viene da me vuole provare a fare qualcosa ce l'ha davanti agli occhi la dimostrazione è tangibile poi io non ho nessun tipo di social non ho niente l'80% delle richieste io le boccio e mi dicono ma come ma potessi guadagnare il triplo non mi frega nulla a me di una cosa del genere perché io vado a caccia se ne ho bisogno non preoccupatevi ok quello che serve per guadagnare perché faccio le mie lezioni o il mio gruppo coeso mi danno un tantino al mese tutti quanti ma poi siamo molto uniti ci aiutiamo moltissimo fra di noi ci credi che tutto il gruppo delle persone che negli ultimi anni io posso spero di non peccare di presunzione ma letteralmente mi permetto di dirlo perché l'hanno detto loro salvato la vita trasformati esteticamente coppie tra i 40 e i 70 anni all'attivo due primari importanti conosciuti di Cagli che mi ascolta sa benissimo che io ho trasformato la vita gli ho detto signora lei sarà anche una primaria gli ho detto ma quello che hanno insegnato sono tutte strunzate così ma come ma come però guarda con questa che è una donna eccezionale alla quale io voglio molto bene una primaria siamo rimasti ancora amici adesso in pensione è una persona che dopo un anno un anno e mezzo circa perché era una donna intelligente l'ho incuriosita che inoltre mi ha detto eh figlio mio mi sa che ci hanno preso per il culo ho detto sì mi sa anche a me beh con questa persona qui abbiamo fatto tutti i controlli gli esami tutto quanto e gli sbattevo sulla faccia da queste cose lì diceva non capisco dicevo ma ti rendi conto che sei un primario e dici a me con la terza media non capisco ho detto rifletti su questo guarda un po' che vantaggio ti ha dato il fatto di aver cominciato nel modo giusto cioè è pazzesco proprio io me ne rendo perfettamente conto col massimo dell'umiltà col massimo dell'amore perché ho i sentimenti puliti verso le donne i bambini gli anziani sono cresciuto con nonni e bisnonni quindi mi capisci sono cresciuto come un alieno perché sono stato educato diversamente io davo del voi in casa i miei coetanei non hanno vista una roba del genere non sanno di che cosa si tratta io per tutta la vita sono stato un ragazzo che anche per quanto riguarda l'alimentazione ma magari mi arrabbiavo per così dire per cose per le quali agli altri non faceva nessun effetto e magari non mi arrabbiavo per cose che facevano effetto agli altri per dirlo in modo generale tutto sempre legato all'imprinting di partenza quindi io durante ma anche fin da giovane di questo centinaia di amici tutti i miei amici tutti quelli che hanno fatto il pugilato com'è l'accademia io facevo l'accademia pugilistica che ho litigato col maestro mi aveva mandato via è arrivato lui che vuole fare il professore mi diceva perché lui diceva ai ragazzi di fare colazione col cappuccino senza zucchero il cornetto vuoto un piatto di pasta a pranzo con tanto parmigiano e a cena masticare la fettina e sputarla e io gli ho detto che lui era un ignorante ho detto tu sei un ignorante non funziona così il corpo umano mi diceva mettiti la busta addosso e suda e non bere acqua no gli diceva io conosco un processo si chiama termogenesi interna ma che minchia dici quindi li andavo contro beh non so scherzo io ho chiesto nulla a Osta sono stato mandato via e accettato da un'altra accademia pugilistica nella quale ha storto meno il naso riguardo alcune mie pratiche perché fino a questo punto mi ha creato problemi fino a questo punto non è poca roba però diciamo che io ero molto sicuro di quello che stavo dicendo sicurissimo mi avevo le prove e dicevo appunto anche i miei coetà dicevo ragazzi ma tu non puoi dirmi che quel piatto di pasta asciutta ti sta facendo bene perché oggi devi fare quattro ore di allenamento io ho un chilo di carne siamo nella stessa categoria di peso ma perché se ci mettiamo allo specchio io sembro la tua custodia perché perché gli ho detto perché c'è quel dente storto un po' giallo lì ti manca tu tu stanno dal dentista tu hai gli occhiali perché gli ho detto io non ho una carie in bocca ti racconto un'aneddoto che sono sicuro che ti fa ridere mia moglie era piegata dalle risate cinque o sei anni fa gli dico ascolta voglio andare a fare una pulizia dei denti andiamo entro mi guarda apri la bocca mi controlla e mi dice però che dentatura scusa l'hai fatta da poco la pulizia perché sei tornato te lo giuro te lo giuro sulla libertà io lo guardo e gli ho detto veramente no è la prima volta che entro dal dentista vorrei fare una pulizia dei denti mi ha detto vabbè ti rubo i soldi mi ha detto scherzando poi mi ha fatto notare mi ha fatto una panoramica mi ha controllato mi ha detto però qui una carie l'hai avuta mi ha detto gli ho detto sì questa risale a quando avevo sette anni otto o dici anni non mi ricordo e gli ho spiegato un po' di cose gli ho detto ma ci sono fatta di quella che ho una motivazione per cui l'ho avuta ho fatto anche il pugilato ho preso una fracassata di botte avrò un naso orribile qualche cicatrice ma i denti ce li ho perfetti e mi fece notare attraverso anche la panoramica che erano molto serrati fra di loro molto molto stretti non riusciva a passare il filo interdentale giuro davvero questa è un'esperienza che mi è successa e gli dissi guardi che io mangio carne e grasso dalla nascita soltanto svezzato così e lui di fatto mi disse lui mi ha detto ma sarà ma sicuramente è per disposizione genetica sì sì certo gli ho detto certo certo non è che nella mia genetica le kinder pinguine non hanno avuto spazio quindi non l'hanno infettata ne hai sentito parlare ovviamente di Weston Price sì 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 ho fatto anche i video non ti ho idea di visti sì ho visto io adesso non sto molto al telefono non avendo neanche social niente però ho visto ho visto subito il tuo canale lo sai come l'ho trovato un po' di tempo fa come si dice cazzeggiando ho scritto carnivoro perché per capire perché io non mi interesso proprio di come va il mondo da questo punto di vista come per la questione delle zone blu io ti dico una cosa se tu non mi avessi scritto nell'email zona blu Okinawa il documentario io non sapevo di cosa si trattava non ho la televisione da quindi da 16 anni 20 anni non ho la televisione non seguo niente allora ti aggiorno senti 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 eh aggiornami se tu cerchi su internet zone blu Sardegna ti escono fuori una marea di articoli che parlano di diete prevalentemente vegetali infatti poi ho dato un'occhiata infatti poi ho dato un'occhiata però io decido di non intaccare più la mia anima col nervoso dato da queste stronzate quindi li guardo e dico ah buon per voi mangiate così ma non è vero non è vero se ti scappa un maialetto qui un agnellino qualcosa se lo mangiano impossibile io ti e io non ti sto parlando di atleti o di gente che è in carnivora o quantomeno dentro delle conoscenze alimentari che per quanto sia convinto che il ciclo di crepes vada diversamente da come in realtà va comunque non abbondono di carboidrati mangiano se per cari comunque io ho vegetariani qua e gli uffici i vegetariani che conosco io mangiano il pesce per dire quindi oppure oppure guarda mi è capitato è a pranzo no io ho la fidanzata di un amico io vengo però non mangio qui poi immaginate se viene a pranzo da me ti viene da ridere se viene a pranzo da me ci sono non lo so 5-6-7 tipi di animali tutti in fila schironati su un tavolo mangia quello che ti pare se si fa una cena prima stavi dicendo che comunque mangi anche il cervello moltissimi organi che altro mangi? tutto tutto allora le fonti io posso io posso dirti senza entrare in nessun tipo di tecnicismo se poi magari se voi parliamo anche di questo però ma tu sei molto preparato io ho ascoltato alcuni tuoi video sei molto preparato e sei preparato nelle cose giuste di fatti smerdi con le evidenze le altre persone per questo ti dico bravo però posso dirti questo figo di niente però posso dirti questo l'effetto del cervello del midollo dei granelli del grasso dell'agnello piuttosto che del grasso del bue io posso dirti l'effetto sul corpo perché c'è una differenza io mangio un giorno tre volte un giorno due a volte una a volte non mangio due giorni e poi rimangio molto tre come mi dice il mio corpo ok però comunque allenandomi ci sono giorni che magari devo allenare tutto il giorno di mattina devo riuscire di sera magari di nuove montagne a far qualcosa lo so che ho bisogno di un pochino più energia quindi quando mi sveglio di mattina faccio colazione mi mangio dieci rossi d'uovo il brodo d'ossa con dentro il midollo il cervello e i granelli perché quando non mangio i testicoli quando non mangi sì sì quando non mangio quella quella fonte lì quella specifica fonte di grassi lì ho meno energie rispetto a quando mangio il grasso in se stesso dell'agnello o di un altro animale oggi abbiamo pulito un paio di agnelli un mio amico ha macellato e io conservo tutto il grasso e poi lo faccio tutta striscioline lo cuocio in stile bacon e nelle uova la mattina insieme al brodo sempre di cervello lo mangio mia moglie perché le donne ho notato che hanno bisogno di più grassi rispetto agli uomini e lei 36 anni devi vederla com'è squartata fisicamente una forma fisica invidiabile da tutte io ho amici che sono professionisti nel settore che la insistono di andare a far le gare però lì è molto no è vergognosa non si metterebbe mai in costume davanti agli altri è vergognosa quindi non lo farebbe mai però per dirti la condizione atletica perché anche lei fin da piccolina essendo si è urgus dunigala non ha mangiato come ho mangiato io però ha mangiato similmente a me per tutta la sua adolescenza poi periodo universitario e varie un po' ci si perde c'è un po' la cottoletta la mozzarella e le semplici cose poi quando ha conosciuto me invece anche il signore cosa raccontarti l'anedotto di quando è andata a fare la spesa a lei e poi è tornata a casa dieci booster regalate direttamente al vicino gli ho detto adesso riusciamo a fare la spesa vieni l'ho portato in montagna a prendere animali gli ho detto da oggi gli ho detto tesoro io mangio così se vuoi provare vedi cosa succede lei è una donna intelligente ci ha provato e non c'è dubbio poi lei lavora al bar vede persone tutti i giorni lì che si ingoggiano in condizioni fisiche pietose io vedo persone di anno in anno distruggersi perdere i denti i capelli tanto quanto perché lì può esserci una predisposizione genetica un ciclo ormonale che ti ha portato a quello quindi sti cazzi può anche non essere da considerare però lo vedi il colore della pelle io proprio oggi parlavo con un mio allievo che ha un suo carissimo amico che conosco anche io che è vegano di quelli che guai è proprio io sono una merda io per lui sono una merda proprio capito come elemento nel senso che figurati per me è normalissimo cacciare uccidere e mangiare quindi proprio la pace dei sensi al massimo per me anzi sono contento quando lo faccio e se io vedessi un qualunque allevatore che dà anche un calcio a una pecola per mandarla via io mi avvicinerei da quell'allevatore e lo farei pentire di quello che ha fatto perché gli animali non si toccano io ho il mio amico allevatore li accarezza li coccola li prepara gli agnelli prima anche lui un carnivore una persona intelligentissima Giovanni un uomo incredibile senza una particolare cultura gli è bastato il senso logico di quello che ha osservato con i suoi occhi che quando gli ho detto guarda che è un inganno dalla frutta la verdura soprattutto è un inganno lui che è un uomo intelligente mi ha guardato mi ha detto beh a guardarti effettivamente sai l'ultimo vegano che me l'ha detto va a 25 cm di collo mi ha detto non mi ha convinto molto parole sue ero morto dalle risate insomma in questo momento mentre io faccio questa questa bella chiacchierata con te a tre metri da me qua c'è la palestra ci sono ragazzi che si allenano vanno giù pesante finiscono mangeranno tanta carne domani andranno a lavorare chi montagna chi muratore tutti con la loro porzione di cibo che fanno colazione con grasso e uova e burro gli ho trasformato la vita gente che arrivava da me deforme il dato più importante che io ho potuto osservare da parte degli uomini compresi tra i 30 valore dall'età tra i 30 e i 50 anni che quando sono venuti da me io cerco di avere un rapporto con loro molto confidenziale li metto veramente a loro agio e li faccio capire che ho vissuto tante esperienze e che possono aprirsi stare tranquilli che laddove posso cerco di sostenerli tu lo sai qual è il dato più importante che accomuna tutti gli uomini il calo del desiderio sessuale che mi sembra ovvio perché comunque nel ciclo la pipì ormonale le vie secondarie dimostrano ok quindi è ovvio e io gli dicevo allora quando me lo dicevo li portavo al punto di dirimelo perché glielo leggo in faccia a parte che è ovvio sei trent'anni che mangi pasta asciutta a pranzo sei superato i trent'anni hai qualche problema sicuro quindi non è che ci vuole essere la scienza d'archimede per capirli li leggevo in faccia l'avevo già compreso guardandoli mani occhi collo pancia modo di camminare qui sotto i denti li leggi e gli dicevo ascolta io penso che tu abbia tutto l'interesse di sentirti bene nei confronti di tua moglie mi sbaglio eh se mi sono aperto a confinarti a te mi ha detto gli ho detto ok gli ho detto allora ascolta un po' approfittiamo di questo grave problema prova così come una terapia me lo dici tu io ti giuro che non veda la luce di domani non ce n'è stato uno anzi non c'è stata una moglie che non si è venuta a ringraziarmi due mesi è la media e non è che mi hanno fatto una carnivora perfetta eh esatto non c'è nemmeno bisogno di quello basta semplicemente io infatti spiego loro io mi mostro come esempio e dico allora allora ragazzi arrivateci per gradi io prima di entrare definitivamente in una carnivora c'è da fare la considerazione che sono nato svezzato così quindi per me non è che è stato difficile è stato un tornare agli origini niente di più anzi anzi ora tu io con te sfondo una porta aperta ma queste sono le cose che cerco di far notare a tutti i ragazzi e tutti subito mi dicono questa cosa è l'effetto a livello dell'umore nel tempo di una settimana cioè non è possibile certo che è possibile gli dico io sei avvelenato ma se tutti io gli faccio gli esempi più scemi dico tu non ti droghi vero non ti droghi di ruina giusto no ecco che se ti droghi di ruina tutti i giorni come ti senti appunto ogni giorno e poi fra qualche mese eh ma non è la stessa cosa per te non è la stessa cosa guarda che in realtà e io gli dimostro che è la stessa cosa nel senso che ovviamente ci siamo intesi no gli dimostro che comunque il concetto di dipendenza che poi a livello chimico avviene nel corpo da me in palestra c'è una lavagna così grande le mie lezioni iniziano con le frasi di Paracelso gli metto ogni giorno una frase di qualche bravo autore che li mette in un buon punto di riflessione dopodiché gli interrogo come è cenato come è pranzato come è guarda che mi è capitato qualcuno che mi ha detto eh ma io così non ci riesco accompagnato fuori subito non ti alleno vai fuori non ti alleno non frega niente vattene li mando via anche affettuosamente mi capisci per spronarli Roberto questo è quanto c'è troppo ci sono delle evidenze che però le persone oggi non hanno la possibilità di poter notare perché hanno un condizionamento di tipo gurgeviano fin dalla nascita che persino noi sicuramente avremo dei condizionamenti di cui non siamo consapevoli io penso che se ti liberi completamente da tutti i veleni incominci ad avere una condizione psicologica diverso cioè il tuo pensare è diverso io ho fatto tutte le prove io ho due quaderni grossi così dove annotavo le sensazioni dopo gli sgarri bada non avevo le conoscenze che ho oggi li annotavo convinto che quello sgarro non era un problema però io notavo che c'erano delle cose ricorrenti ogni volta e le annotavo perché le annotavo perché il mio corpo è nato già molto bene quindi mi aveva predisposto ero più sensibile quando mi chiedono molti miei atleti ma adesso c'è Natale quella come fai ma che vuol dire come fai a parte che quando io mi siedo in tavola qui in Sardegna dei miei suocili e tutto c'è talmente tanta carne in tavola che non se ne accorge nessuno se non mangio la pasta al forno non se ne accorge nessuno una cosa non ho capito in che modo ti ha cambiato il fatto di essere poi ritornato con tua madre aver cominciato per la prima volta a mangiare determinati alimenti che poi ti hanno portato a prime diciamo problematiche stare molto male ah no scusami pensavo il periodo eh sì volevo dire più o meno a che età è successo questo dicevi verso gli 8-9 anni sì per quanto tempo tre anni tre o quattro anni tre o quattro anni qualcosa del genere più o meno periodo nel quale già mangiare come mangiare prima subito dopo sì perché subito dopo è a cavallo del periodo in cui io conobbi Nino Pinna della palestra che ti dicevo e avevo 13 anni quindi ci sono state delle dei sincronismi molto importanti nella mia vita perché in quel momento io ho avuto un'ulteriore prova negli unici anni che ho mangiato diversamente sono stato malissimo ora torno in un'età in cui sto diventando adolescente quindi posso scegliere per conto mio approdo in una palestra dove le indicazioni di tipo alimentare sono della old school tra l'altro mi ha detto con la tua esperienza passata esattamente io ho ripreso da quel momento ti volevo chiedere perché sono sicuro che le persone lo chiederanno di che gruppo sanguigno siete tu e tua moglie allora lei è gruppo zero e io a B positivo tra l'altro credo qualcosa del genere poi cos'altro posso dirti insomma niente riguardo la questione della sardegna vegetariana una stranzata mostruosa prima di tutto che mangiano da schifo e mangiano male in linea col sistema senza alcun dubbio perché come ti dicevo vedo le persone sfasciarsi di giorno in giorno comunque oggi oggi bravo bravo è una cosa solamente di questo piccolissimo ultimo periodo di 40-50 anni però comunque gli alimenti che si sono sempre consumati restano assolutamente assolutamente ma guarda che qui ci sono sagre della peccora sagre dell'agnello in continuazione è impossibile il contrario siamo in Sardegna è una stronzata mostruosa qua giri per le strade e trovi e vedi ancora basta che esci da Cagliari ma giusto un attimo perché anche nell'autostrada principale nei terreni a fianco dove sono liberi ancora ci sono le pecore i pastori è così sempre sicuramente la Sardegna è il posto migliore dove poter seguire una dieta carnivora in Italia in Italia assolutamente senza alcun dubbio perché se tu avessi intenzione io ripeto non andiamo al supermercato da moltissimi anni le persone spesso hanno i loro animali oppure comunque conoscono degli allevatori che comunque li diforniscono esatto qua è assolutamente fattibilissimo ora per intenderci io vivo in una zona dove rispetto a Cagliari sono distante se esco in macchina a mezz'ora i cibi tradizionali sardi li mangiano tutti e in continuazione è una stronzata gigantesca dire che la Sardegna è vegetariana non è assolutamente vero chiunque mangia il maialetto gli unici vegetariani che conosco mangiano il maialetto è che qua nelle ultime generazioni che seguono la moda che non hanno capito una minchia sono cresciute veramente senza comprendoglio indottrinati mischini diciamo in questa maniera fondamentalmente la colpa è degli adulti perché comunque io ti ho fatto l'esempio che quando ero piccolino avevo lardo carne secca e uova soda in tasca qualche anno fa è venuta qua una mia cugina che era sovrappeso di 40 e passa chili le ho detto perché non sei venuta prima detto perché conoscendo te ha detto non ero pronta mi ha detto ad essere investita mi ha detto travolta da tutte queste situazioni perché già immaginava mi ha detto però c'è stata una cosa che mi ha fatto pensare che mi ricordo che quando eravamo piccolini noi avevamo qualche lireta in tasca per andare a comprarci le patatine andavamo da signora Teresa compravamo la coca cola e invece tu bevevi l'acqua e avevi in tasca le uova sode e la carne sicata ti ricordi quando ti prenevamo in giro per questo mi ha detto ma non ti prendiamo più in giro adesso vengo da me a cercare di farsi aiutare perché comunque ormai le evidenze sono troppe quindi quando ci sbatti il muso a cento volte e poi non c'è niente che stringi di più il culo della paura dell'ossere malati e stare male è evidente io ho sentito in un tuo video che tu hai avuto un problema pesantissimo di psoriasi e quindi se in prima persona lo capisci beh io ho avuto un problema non di psoriasi devo dire onestamente che ho passato l'intera mia vita quasi completamente sano io non prendo l'influenza per dire cose di questo genere però nelle annotazioni dei miei documenti qualche anno fa che ancora non ero entrato definitivamente in quest'ottica e comunque sgarravo ecco che facevo lo sgarro mangiavo come andava qualcosa e poi la mangiavo abbondantemente potevo mangiarmi 15 paste di pasticceria in una sola volta come sgarro sai il corpo è capiente ci sta vuoi provare a sgarrare mangi bene tutta la settimana fai uno sgarro esagerato quindi voglio dire io ho sommato quasi un anno di questa pratica ci sarebbe molto da dire l'ho fatto volontariamente io ho fatto volontariamente il vegetariano come ti dicevo per un anno e mezzo non ne avevo nessunissima intenzione ascolta Roberto io adesso non so niente di te però io te lo dico in tutta sincerità se dovesse capitare che tu hai la possibilità viaggi e venire qui da me a parte il fatto che io ho una casa molto grande ne ho anche un'altra intera libera dove potresti alloggiare io mi prendo l'impegno di fare un giro prendiamo la mia macchina mangia e dormi da me e ci facciamo un giro per la sardina tutti i paesini le persone che conosco ti faccio vedere cosa mangiano lo documentiamo e poi diciamo zona blu sì però c'è io zona blu bellissimo bellissimo grazie mille nel caso in cui tu volessi provare a documentarlo io ti invito qui da me non hai bisogno di niente c'è la palestra c'è tutta la ghisa la mia palestra ti piacerebbe molto così mi alleno è costruita in casa tutta in legno però all'interno l'attrezzatura è tutta panata professionale ho comprato un'intera palestra abbiamo la sauna la vasca per il ghiaccio la campagna per correre qui fuori ai miei allievi li faccio inseguire le galline fa parte dell'allenamento glielo faccio fare giuro non è una fesseria posso non testimoniarlo che attrezzatura hai nella palestra tutta c'hai anche power rack hash bar per trattioni c'hai tutto ovviamente tutto squat pressa multi power leg extension leg card gluteus multi power panche panche inclinabili panche piane cavi crociati let machine pull t bar due rastoglieri in manubri che vanno da zero a trenta una e da trentacinque a sessanta all'altra quadra bar tutti i bilancieri olimpionici solo dischi gommati la mia attrezzatura l'ho coltivata in vent'anni piano piano è un'attrezzatura spettacolare la mia vita è alzarmi il presto la mattina quando sorge il sole avere a che fare con la natura allenarmi tutta la mattina e poi occuparmi io ho lavorato anche moltissimi anni ho fatto la sicurezza ho lavorato più di vent'anni così però poi cinque anni fa non ne avevo assolutamente la minima intenzione con mia moglie abbiamo comprato ma questo ho già da più di cinque anni qui il terreno ho costruito la palestra e quindi mi sono fatto la mia attività in casa posso definirmi un istruttore non so che è un coach non mi interessa sono un uomo di vita che conosce delle evidenze che sono dimostrabili da qualunque angolo a supporto ci sono tonnellate di documentazione che se uno non è un troglodita è in grado perché poi la curiosità ma hanno ucciso la curiosità nella mente delle persone quindi anche questo è un altro fattore molto importante bravo perché quando una persona è curiosa si mette a cercare e quando è motivata poi da qualcosa di forte perché è stata male magari allora si mette a cercare a sperimentare bravo ecco esatto è quello che dicevamo prima che quando una persona ha paura gli entra la paura di un eventuale problema di salute che da cui sfugge pienamente il suo controllo in questo caso giustamente gli suscita l'interesse di dire ci provo anche da disperato la maggior parte delle persone si sono avvicinate da disperate io ho avuto la grande fortuna di avere delle comparazioni a delle esperienze che mi hanno dato la possibilità di dire ma vuoi vedere che è così e quindi ho avuto sempre anche per il fatto di aver fatto un'alimentazione pulita la mente lucida fresca questo mi ha sempre tenuto viva anche la curiosità quando a me signor Nino mi disse che dovevo mangiarmi anche 20 uova al giorno e non ha si ha storto il naso ma non particolarmente credimi non particolarmente diciamo che lei non avrebbe storto il naso entro le 10 uova ok secondo la sua concezione giuro giuro però io volevo mangiarne 20 beh avevo subito mi è suscitata la curiosità di capire chi perché e come quando io però vedevo la comparazione con quegli atleti che al tempo erano già 60 anni 70 anni e qualcuno è ancora in vita magari adesso no forse da un 5 6 anni a questa parte insomma ma avrebbero avuto 90 e passa anni e sono tutti uomini di quell'epoca morti vecchietti con un bel fisico fino alla fine erano tutti di prettamente in quella alimentazione lì che non si parla di sport dei primi del novecento ma di cosa cavolo pensi che si nutrisero non ci sono neanche i frigoriferi ovvio che devono mangiare carne lardo uova e tutti gli animali che cacciano lo faccio per mestiere di stare seduto per delle ore con una lavagna a spiegare ai miei ragazzi un sacco di robe quindi a te non ti devo spiegare niente però posso raccontarti le mie esperienze tu comunque sei un divulgatore io non ho neanche i social non mi interessa nulla io ho a che fare con le persone solo faccia a faccia qui arrivano da me in questa maniera però ho tutto la volontà e l'interesse di volerti dare una mano non commento i video le cose niente non metto mi piace non faccio niente di cose di questo genere l'ho fatto con te perché comunque condividevo una realtà che io conosco molto bene fino alla nascita ho visto che intervisto persone che fanno questo da chi da tre chi da cinque chi da otto anni la carnivora e cavolo io l'ho fatto dallo svezzamento glielo devo dire comunque una cosa stavo notando adesso non ci avevo fatto caso però se ti avvicini di più alla videocamera io ho noto una cosa tu prima hai detto che magari hai il naso un po' storto perché hai fatto pugilato però io ho noto una cosa che hai il naso molto più spesso il largo allora io devo dire una cosa ho uno satturio è verticale vabbè tieni presente che io ho preso le botte quindi il naso ovviamente appena le botte io ho visto le foto pubblicate da Weston Price di cui ho fatto vedere nei video dove ci sono le popolazioni native che hanno il naso molto più largo mia moglie mi prende in giro perché mi dice ad esempio apri e chiudi le narici io lo faccio e mi dice ma non c'è differenza perché in realtà io non ho giunture particolarmente grosse perché sono alto un metro e 76 e peso 80 kg non è che sono un gigante e non ho neanche un aspetto tozzo però in alcune caratteristiche fisiche l'attaccatura del collo dei trapezzi dei polsi delle dita il naso le mascelle i temporali ah ecco una cosa che ti può interessare i muscoli temporali della mia testa ma sticcare carne da bambini lo fa questo la righezza del naso e ha lo spessore della nacella e l'ampiezza delle arcate dentali questo dipende proprio da se da bambino hai avuto un'abbondanza di vitamina K2 questo permette alle matrix la proteins di attivarsi grazie appunto alla K2 che invece le persone come me che da piccole non hanno avuto questo invece non hanno avuto la possibilità di sviluppare bene ascolta voglio farti una domanda io invece a te Roberto da quanti anni è che ti alleni con i pesi di incarnivora sei tre anni giusto? tre anni e mezzo ma con i pesi ho cominciato ad allenarmi a 14 anni e mezzo ok però diciamo che ho cominciato ad allenarmi bene più o meno a 20 anni ok io posso darti un consiglio riguardo a questo tanto tu conosci l'argomento io ho trovato il metodo migliore per l'incremento della massa muscolare facendo ruotare i nutrienti quali midollo cervella e tutte cose di questo genere inserendo nella colazione con almeno 10 tuorli e allenare un giorno sì e un giorno no io alleno un giorno sì e un giorno no do sempre un intero giorno di recupero in quello alterno non è che sono caricato in un divano cose da fare ne ho però comunque in ogni caso in linea di massima alcuni pesi alleno in questa maniera e ho notato che inserendo nelle colazioni dei giorni in cui alleno alcuni tipi di nutrienti io ho incrementato la massa muscolare domanda finale perché questo è molto molto importante dato che mi servirà sicuramente per il titolo del video perché devo cercare ovviamente di dare qualcosa di accattivante per le persone affinché guardino il video ti volevo chiedere andiamo a sommare tutti gli anni in cui tu hai seguito un'alimentazione alla fine carnivora quanti anni vengono in totale 35 35 anni fantastico sì 35 io non me ne rendevo conto per me era la normalità l'unica cosa che io osservavo erano le differenze che palesemente io avevo anche rispetto ai miei coetanei innanzitutto dal punto di vista sociale perché io non ho avuto mai nessun problema andare al cinema e portarmi un pollo arrosto al posto dei popcorn ma te lo giuro non mi frega nulla per me era la normalità perché io quando tu stai bene dentro la tua pelle e hai capito che il motivo è questo e le prove schiaccianti sono tutte intorno a te perché oggi guarda che devi essere veramente un troglodita un decerebrato per non renderti conto che stanno operando in un modo molto specifico oltretutto è anche possibile ritrovare tutta la documentazione ma non quella di chi come me decidi di aprire un canale metti e mi metti a raccontare no quello può essere una pulce nell'orecchio niente di più poi devi andare a documentarti per conto tuo riguardo l'alimentazione è troppo facile è troppo facile ci saremo istinti se no non serve la ricerca basta un po' di logica e un pizzico di coraggio un pizzico di coraggio queste sono le frasi che dico io ai miei atleti gli dico ma poi mi spieghi gli dico di quale coraggio devi essere armato se mi guardi e siamo coetanei qui vengono persone da me mi è capitato che così parlando vabbè tu sei giovanotto è facile per te parlare scusa ma quanti anni hai? io ne ho quasi 40 mi rispondono io invece ne ho quasi 47 e non vedo l'ora di averne 57 per farti vedere che probabilmente sarò uguale sì sì questa è la mia scommessa poi farò come i siux quando ci sarà un buongiorno per morire morirò però sono anche sicuro che se io ripeto esattamente tenendo fede alla mia intelligenza alle cose di cui sono ben fornito con consapevolezza e conoscenza forte delle esperienze datemi da indirette dei miei nonni e bisnonni che sono morti centenari mia nonna ha fatto accenato con il brodo di ossa e il lardo dentro tagliato a pezzetti soffritto prima nel grasso stesso dell'animale da una vita e le frasi erano sempre le stesse tocca tocca magari vai bene pappa che vai bene che cresci bene mi dicevano mangia che ti fa bene che fa crescere bene questo era abbastanza semplice questo in sardo dai poi ripeto magari ci sono alcuni fattori genetici come possono essere i capelli o cose di questo genere che non hanno necessariamente a che vedere con questo probabilmente non lo so non conosco tecnicismi così profondi ma a me non mi manca un capello cioè a me mi si uniscono le sopracciglia un altro po' i capelli qui un'altra cosa perché mia moglie mi prende in giro quando mi ha conosciuto mi ha detto che strano che sei diceva sei diverso ce lo giuro sei diverso spero è meglio non so che dirti poi nella frequentazione ha visto in prima persona un po' di cose e lei stessa ha detto no 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 io non ho dubbi poi è una ragazza intelligente mia moglie quindi ha studiato e si è documentata di suo perché io come dico i miei atleti non credere a una virgola di quello che ti dico in realtà ti ho detto una marea di cretinate mangio latte biscotti pasta asciutta a pranzo e pizza tre volte a settimana non credermi dico non è vero ti ho detto un sacco di stronzate il discorso di due ore prima era incentrato invece su questi argomenti qui loro mi guardano e a volte ti mando via questo all'inizio prima che capiscono come funziona che non hanno capito se ero serio o stesse scherzando ma questo mangia veramente la pasta asciutta mangio veramente solo carne perché io non l'ho mica capito poi mi frequentano l'ambiente vengono naturalmente io accetto solo persone che come ti ho detto prima hanno intenzione di fare un percorso preciso altrimenti io non alleno persone che pranzano a pasta asciutta e fanno colazzo dal bar bevono prosecco e fiumi di birra non ne voglio gente così non mi interessa non ti giudico fai quello che vuoi ma non farmi perdere tempo io ho uno scopo è quello di insegnare aiutare gli altri a salvarsi la vita così come la vita ha voluto che io mi salvassi dandomi dei sincronismi delle esperienze delle cose molto particolari che mi hanno dato permettimi la parola come un potere psicofisico allora a quel punto cosa faccio faccio il cattivo della situazione o provo nel mio piccolo a fare l'eroe della mia vita provo a fare l'eroe della mia vita che è quello di dire ragazzi oh vieni qua svegliati guarda io e te che parliamo adesso in mutande davanti allo specchio e siamo coetanei cazzo c'è qualcosa che non va è evidente non sono un alieno sono come te oh i più stronzi mi accusano di doping io conosco persone nel mondo atletico idea di quanta gente ho conosciuto però posso dirti una cosa magari accetta anche di dirlo lui stesso questo è un professionista che è del bodybuilding di altissimo livello che lui stesso mi conosce bene conosce il mio stile di vita infatti siamo diventati amici lui molto onestamente mi dice io ora sono in carriera ho raggiunto un livello che ho raggiunto in questa maniera ovviamente le tue idee di quanta chimica usano giusto? lui mi dice tu hai un effetto chimico in corpo che è indotto dal modo in cui stai mangiando non c'è altra spiegazione sono i grassi e le proteine in quel volume sicuramente è una buona genetica mi dice ma non c'è dubbio che sia dovuta a quello ok? lui stesso lo ammette lo comprende lo sa mi dice quando interrompe adesso sta prendendo palestra anche qualche altra cosa in giro per l'Italia sta facendo delle cose importanti quindi dice ma concluso questo non lo so non ti nego che sicuramente ti prenderò in pieno esempio perché 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 glielo dimostro perché a volte anche se un professionista io magari non ho sollevato i suoi carichi proprio su tutto ma a volte sui carichi medi io facevo il doppio delle ripetizioni anche questo è un dato importante e quindi io ripeto dico ragazzi io cerco di fare per voi quello che posso in palestra io faccio il sergente Hartman però poi uso anche parole del tipo ragazzi io vi amo in modo dal punto di vista umano io vi amo e cerco di di salvarvi la vita perché lo vedo che altrimenti tu devi andare a spendere soldi con le medicine tua figlia ha sempre la diarrea del sottopeso tu hai l'influenza dieci volte all'anno tu stai perdendo i molari tu non ci vedi tu sei sottopeso non è possibile quindi poi ci parlo sono in confidenza io sto spiegando in modo veloce e gli dico dimmi adesso dimmi detto tra me e te da uomo a uomo stai proprio bene in tutto c'è qualcosa in termini di qualità di vita che miglioreresti dai dimmelo le dico me lo puoi dire sono un maschietto come te non ti giudico cazzo dieci su dieci dieci su dieci effettivamente nell'ultimo periodo sai sicuramente deve essere stata la cura antibiotica deve essere stato quello deve essere stato il clima dopo deve essere stato che mangi di merda le dico prova elimina tutto usa solo la carne la papardella ore giorni settimane mesi mia moglie è in casa mi sente lei mi dice ma tu fate i pesi o parli mi ha detto perché non capisco le nostre lezioni in realtà io prima ti ho detto alleniamo tutta la mattinata allora iniziamo ad allenare entro le 8 e 39 ok finiamo verso mezzogiorno mezzogiorno e mezza l'una al massimo è tutta la mattinata sì ma vanno via da qui alle 15 di solito non prima due ore due ore e mezzo li porto in casa gli faccio vedere come mi nutro cosa ho nel frigo come tengo la carne cosa ho nel pozzetto i miei esami tutto gli mostro tutto tutto lo storico oh non ne ho trovato uno che non ha sgranato gli occhi dalla curiosità però eh perché giustamente mi ha di fronte e quindi dice ecco mio io sono 30 anni più di 30 anni che mi nutro così guarda l'effetto che mi ha fatto fai qualcosa fai qualcosa per te adesso perché comunque io ho visto anche che anche se una persona è iniziato dopo i 30 anni io ne ho uno questa è bellissima eh io ne ho uno che è iniziato con me all'età di 38 anni aveva le vene varicose in tutte le gambe le spalle strettissime un ventre enorme il collo fine fine le braccia fine fine e non riusciva a fare un piegamento a terra in negativa cioè partire dritto sulle braccia e scendere fino a toccare il petto lui non riusciva a stare in negativa su un piegamento è il più forte che ho adesso non ha neanche una vena varicosa niente la pelle il viso è arrivato a me con le mascelle fini 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 gli si sono ingrossate le mascelle sono passati molti anni ci vuole un decennio 5, 7, 8 anni ma quell'imprinting ti arriva anche dopo i 30 anni per un'ipotesi inizia a 30 a 40 sei diverso se ti alleni pesante mangi bene vedrai 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 ne sono sicuro anche tu anche tu stesso sei una dimostrazione ora nel tuo primo periodo di questi tre anni e mezzo hai già dimostrato moltissimo io come ti dicevo ho seguito qualche tuo video e ho visto hai dimostrato moltissimo un bel canale il tuo serio sei una brava persona sei un ragazzo in gamba sai quello che stai dicendo e questo è importante perché io sento in giro persone che veramente dottori infermieri nutrizioni gli asfalto non riescono ad avere spazio poi io veramente magari ho pure un po' un caratteraccio perché comunque mi arrabbio perzosamente però in realtà gli sto tirando il collo perché gli dico mandi le stronzate che quello che mi stai dicendo devi prima di tutto dimostrarmelo e ti sto guardando gli ho detto e mi fai ridere a guardarti fisicamente capito? e mi è capitato anche i discorsi di questo genere perché ti ammali con tutta quella carne assassino che uccidi gli animali e allora a quel punto io la sento un'offesa perché io ho visto la mia famiglia cibarsi andare a caccia solo per poter mangiare non eravamo poveri non lo siamo mai stati grazie a Dio ma non eravamo poveri semplicemente perché noi non avevamo l'interesse di comprarci la roba di comprarmi le scarpe belle avevamo interesse di avere le scorte di carne di uova e di quello che serviva quindi ecco da questo punto di vista che io sono nato ricco e mi hanno lasciato un'eredità enorme io ho uno scopo voglio essere vecchio 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 è ancora così io almeno due anni fa due anni fa ho detto stop io ho smesso di evangelizzare e di raccontare questi sei di condividere questo segreto salva vita basta non lo considero più vi guarderò nel vostro brodo chiedendo del proprio male pianga a se stesso non vi dirò neanche mezza parola anche se muoio dalla voglia di farlo e di fatto in realtà così ho fatto al di là dei miei atleti che come tu ho spiegato arrivano qui per amico di amico di amico e quando arrivano da me è perché dicono andiamo dal sergente Hartman dobbiamo salvarci la vita quello ci salva in qualche modo perché tanto mi obbliga a fare le cose e io uso questa filosofia diciamo ecco per dirla un pochino così ma perché ti dico questo perché sei l'unico per il quale ti dico il mio tempo non c'è problema te lo dedico perché aiuta per un'altra volta grazie mille per il tempo che mi hai dedicato sei stato gentilissimo bravissimo mi farebbe piacere tantissimo avere altre conversazioni simili anche una diretta e poi per la Sardegna magari ne parliamo un'idea bellissima quella che mi hai dato vieni 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 guarda che mi è capitato già con qualche amico che vive fuori che addirittura con uno che ho conosciuto così ho detto guarda vieni eh io ti ospito non ci sono problemi e quando vengono qui e vengono ospiti rimangono belli basiti è stato un piacere ciao buona serata ciao ciao anche a te grazie a presto ciao 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 ciao